L'articolo determinativo IL. IL è un articolo determinativo. Ci sono tre articoli determinativi per i nomi maschili. IL, LO ed EL apostrofo. IL è per le parole che iniziano con una consonante. IL è l'articolo determinativo per i nomi maschili singolari. IL ragazzo. IL bambino. IL panino. IL cane. IL mare è bello. IL bicchiere è vuoto. LEGGO il giornale. IL gatto è piccolo. IL film è interessante. IL pane è fresco. BEVO IL VINO. CERCO IL TELEFONO. CERCO IL TELEFONO. IL NEGOZIO è aperto. IL VESTITO è rosso. IL RISTORANTE è chiuso. CERCO IL TELEFONO. IL Grazie a tutti